Un tempo il lago d'Averno era circondato di foltissimi boschi che lo rendevano anche più cupo e misterioso di quanto non sia ora. Li fece abbattere Agrippa, stratega d'Ottaviano e uomo sul quale non facevano certo presa a culti e superstizioni, quando, per fronteggiare la flotta di Sesto Pompeo che minacciava le coste della Campania, sentì il bisogno di un porto sicuro e di un cantiere di costruzione. Fece quindi scavare un canale di comunicazione fra l'Averno e il Lucrino e fra il Lucrino e il mare. Traforò il Monte Grillo con una galleria, edificò un cantiere e come materiale di costruzione usò gli alberi del Sacro Bosco. Tuttavia il porto militare dell'Averno, chiamato Portus Iulius, ebbe breve vita perché disadatto e superfluo rispetto a Miseno. Molti secoli dopo le opere portuali di Agrippa furono quasi totalmente distrutte dall'eruzione del Monte Nuovo nel settembre 1538. Ne rimangono alcuni ruderi nascosti dalla vegetazione e, a causa dell'abbassamento del suolo caratteristico della regione, sprofondati per buona parte della loro altezza sotto il livello del lago.